E dal PD provinciale arrivano le scuse agli elettori. Lo fa per tutti Costanzo Carrieri in occasione della presentazione del comitato di reggenza del partito di cui lui è coordinatore. Scusa per il periodo di vacazio, per i mesi difficili trascorsi dopo gli insoddisfacenti esiti delle ultime elezioni amministrative. Scusa perché dopo che la segreteria provinciale del partito, guidata da Walter Nusillo, è stata commissariata, a tutti loro è venuta voglia di reagire e buttare il tavolo in area, dice Carrieri. Ma ora è tempo di superare le divisioni e lavorare per un obiettivo comune, annuncia presentando il comitato di reggenza che traghetterà il partito al congresso nazionale. Un PD in difficoltà perché quando ci sono situazioni traumatiche come quelle che abbiamo subito dopo le amministrative, con l'intervento del commissario e poi successivamente con le dimissioni del nostro segretario, certamente crea un minimo di disorientamento e disbandamento. Noi dobbiamo fare in modo di recuperare questo stato di cose, lo dobbiamo fare aprendo le porte di questa comunità a tutti coloro che vogliono partecipare, in un confronto libero, aperto, democratico, senza fazioni in campo, ma sapendo che il PD è un grande patrimonio di tutti e che noi dobbiamo salvaguardare il PD e dobbiamo lavorare nell'interesse del territorio. È finito il momento di unirsi o di dividersi in gruppetti, dobbiamo superare le incomprensioni, dobbiamo andare avanti nell'unico obiettivo di salvaguardare questo grande patrimonio. La soluzione degli amici e dei compagni che vedete intorno a questo tavolo.